Allora, i pomodori... A grappolo! Solo Italia per mio marito! Ah, la marca preferita di mio marito! Come il mio! Mai cambiargiela! Il suo non è il mio! Che poi è pure il mio, eh! Anche il tuo ne va pazzo! Da Penny la spesa è senza stress. Trovi tutto. La freschezza e le tue marche preferite. Se lo sa suo marito. Ma se lo sa il tuo! In effetti!